Lo sprovveduto candidato sindaco al Comune di Roma è stato voluto e sostenuto da Fratelli d'Italia, la principale finanziatrice della campagna elettorale. A saperlo avrebbe potuto risparmiare qualche euro. Perché per far vincere lo sprovveduto candidato di centrodestra non sarebbero bastati centinaia di milioni di euro. E adesso si è scoperto che oltre a metterci la faccia, Giorgia Meloni ha anche messo mano al portafoglio per sostenere Enrico Michetti, il suo candidato a sindaco di Roma per conto del centrodestra, sconfitto al ballottaggio dal pidino Roberto Gualtieri alle ultime amministrative. Dopo i 50.000 euro versati ad agosto. Fratelli d'Italia ha sborsato altri 100.000 euro nel mese successivo, confermandosi così principale finanziatore dell'avvocato amministrativista, ribattezzato dalla stampa Tribuno Radiofonico per la sua collaborazione con l'emittente romana Radio Radio e fortemente voluto dall'ex ministro della gioventù per la corsa al Campidoglio. I versamenti di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale ammontano in totale a 150.000 euro, suddivisi in tre bonifici da 50.000 euro l'uno, risalenti al 27 agosto, al 10 settembre e al 23 settembre. Nella lista dei finanziatori figurano anche tre società che hanno versato soldi nelle casse di Michetti a settembre, OICOS SRL con 25.000 euro, la Societe des Centers Commercials Italia SRLS, nata nell'87 e attiva nel business dei servizi per la costruzione e gestione dei centri commerciali con 12.000 euro, la sorgente gruppa SRL con 5.000 euro. A completare l'elenco pur le donazioni di tre privati, incassate sempre a settembre, Angelo Cacciotti, 2500 euro, Umberto Volpes, 2000 euro, e Massimo Bruno 300 euro.